Ancora un maxi sequestro di droga scoperta dalla Guardia di Finanza su un mezzo pesante sbarcato dopo aver attraversato lo stretto di Messina. In particolare a bordo del tir erano occultati 9,2 kg di cocaina e 11 kg di marijuana. Il controllo che ha portato al sequestro è stato effettuato dai finanzieri del comando provinciale di Messina nella notte del 16 novembre scorso. Nel dettaglio, sotto la lente di ingrandimento delle fiamme gialle, questa volta è stato il porto di tre mestieri, dove abitualmente sbarcano i mezzi pesanti che attraversano la città. Tra questi, quello fermato alla Guardia di Finanza del gruppo di Messina, dove tra quintali di frutta e verdura erano nascosti anche due borsoni con all'interno la droga, non sfuggiti all'inferlibile fiuto del cane da pastore Gimli. Le analisi chimiche esperite hanno dimostrato non solo l'ottima qualità della cocaina, pura al 99%, ma anche come la marijuana risultasse della migliore qualità del tipo Amnesia AIDS, una particolare varietà dall'alto principio attivo, considerata per questo tra le più potenti al mondo. Lo stupefacente sequestrato, opportunamente tagliato, avrebbe potuto fruttare nella vendita al dettaglio oltre 2,5 milioni di euro, andando così a finanziare le casse delle strutturate organizzazioni criminali destinatari a un così rilevante quantitativo, necessita certamente di importanti rete di ricezione e smercio. Sulla base delle risultanze investigative, l'autista del mezzo pesante è stato tratto in arresto in fragranza di reato, per detenzione di sostanze superfacenti e condotto alla casa circondariale di Gazzi. L'operazione e la frequenza con cui vengono effettuati importanti sequestri di sostanze superfacenti, oltre a testimoniare l'assoluta rilevanza attribuita al fenomeno dalle fiamme gialle messinesi, conferma l'importanza del territorio pelloritano, quale punto strategico di nodo di significativi traffici illeciti verso l'intera isola e la sua unicità sul territorio nazionale.